grande davide allora prima cosa scrivetemi un botto scrivetemi un botto anche se non avete un cazzo da dire facciamoci sentire il cappello stortissimo che cazzo di cappello comprato questa la dedico a danny che si lamenta sempre che metto che metto rap oggi circo gels subito una domanda a bruciapelo allora allora tolgo la musica tolgo la musica anzi metto un'altra musica perché un po di sottofondo ce lo voglio però non voglio farmi bloccare la live da giustamente giustamente perché i diritti sono i diritti cosa cazzo metto dove sono le mie playlist e le mie album cazzo di operation ivy allora arrivo metto questa qua che è tranquilla allora benvenuti sul canale dove non aprite questo blog io sono il gonz felicissimo che siate qua con me scrivetemi in chat per dirmi cosa fate se state morendo di caldo se state morendo di freddo come me perché ho l'aria condizionata a palla oggi live dedicata a quite place 2 o 2 come diremmo noi italienne però senza spoiler ragazzi non vi preoccupate chi mi conosce lo sa che sono in grado di rendervi l'esperienza estremamente piacevole e non rovinarvi il film sono sono assolutamente contro gli spoiler però si può parlare tranquillamente nel film farvi anche venire voglia di vederlo a quite place direi che è andato bene il primo film no cioè è piaciuto abbastanza a tutti a me è piaciuto abbastanza ma non è che mi avesse fatto impazzire ciao danni siamo in viaggio ma ti stiamo ascoltando quindi al posto di ascoltare il radio dj radio maria lo zodi 105 tutta questa robaccia ormai antiquata ascoltate il gonz che vi parla di cinema horror parliamo di a quite place 2 e poi se volete rimaniamo a cazzeggiare all'infinito parlare di cinema all'infinito finché non svengo la prima domanda di davide perin è fighissima allora allora carico per a quite place 3 sì perché quando un francese va bene bisogna subito partire con il 3 il 4 il 5 il 6 ma questa domanda ha una doppia risposta da un certo punto di vista ti direi sì sono carico nel senso che per come è venuto il il 2 ti direi va bene facciamo anche il 3 soprattutto se lo se lo dovesse dirigere ancora krasinski per come si svolge la storia del 2 direi proprio di no ma su questo non vado oltre perché spoilererei il film quindi per come per quello che vedrete in a quite place 2 non sono assolutamente d'accordo su un seguito detto ciò non significa che un bravo sceneggiatore non possa invece trovare una chiave per raccontare una buona storia e fare un terzo film che non necessariamente debba essere il proseguimento della storia della famiglia e bot che è la famiglia che vediamo nel primo film famiglia composta da madre padre due maschi una femmina audiolesa cioè quindi non udente e vabbè lo dico un figlio piccolo penso penso anch'esso femmina ecco sappiate che questa live non è spoiler per chi ha visto il primo film quindi non spoilererò il secondo film quindi a quite place 2 non lo spoilererò mai ma spoilererò perché non posso stare troppo attento a questo il primo film di a quite place quindi se non avete visto il primo film di a quite place non guardate questa live venite a guardarla in seguito quindi la famiglia e bot adesso mi ero anche segnato del una specie di riassunto no nel primo film noi vediamo che è già successo tutto no cioè sono già arrivati questi alieni sul pianeta terra scopriamo che sono ciechi scopriamo che hanno un udito incredibile scopriamo che i protagonisti sono la famiglia e bot e e inizia subito tragica la situazione perché perdono il bambino più piccolo il maschio più piccolo muore muore perché non bisogna fare rumore quando ci si sposta bisogna essere molto silenziosi per non attirare questi alieni che sono arrivati sulla terra e ammazzano tutti gli esseri umani che fanno rumore insomma sono proprio un po così hanno un caratteraccio perché insomma basta chiedere fai meno rumore invece no questi ti ammazzano ti distruggono ti fanno a pezzi insomma sono anche piuttosto corpulenti sono grossi sono poi parleremo anche di come sono fatti gli alieni che li vediamo completamente nel primo film quindi non è uno spoiler perché li vediamo nel primo film e li rivedremo nel secondo film e lì non c'è niente di nuovo sono gli stessi alieni chiaramente la famiglia si rifugia in una casa si rifugia in una casa dove più o meno riesce a continuare a vivere grazie al fatto che parlano tutti linguaggio dei segni perché la figlia che battutaccia gonz ma io sono pieno di battutacce mi è venuta in mente una barzelletta che mi ha detto giona ieri qual è il maiale che non vuole mai andare a dormire e che è peggio della mia il maialetto è una battuta da bambini però devo dire che è sulla buona strada per diventare un pessimo comico come il padre allora vivono e riescono a sopravvivere anche grazie al fatto che parlano il linguaggio dei segni che linguaggio che hanno dovuto imparare perché hanno tra i membri della famiglia appunto una bambina audiolesa una ragazzina dopo questa esco quindi quindi sta insultando l'umorismo di mio figlio grazie quindi poi vabbè chiaramente le cose si mettono male e ci sarà il sacrificio del padre che morirà per salvare la sua famiglia o quel che ne resta insomma nel frattempo la madre avrà partorirà questo neonato e quasi la storia si fa veramente interessante perché il padre muore lei partorisce forse in una delle scene più belle del film cioè proprio quella del parto dove tutti quanti vedendo il film ci chiediamo ma ma come fa come farà bambino cioè i bambini quando nascono la prima cosa che fanno è urlare piangere urlare come dei matti quindi insomma il primo questo questo evento qua ci ha incuriosito tutti tantissimo ed è forse la parte più divertente del film quella con più tensione più e gestita anche piuttosto bene la cosa che tutti ci siamo chiesti è ma come farà vivere in un mondo di mostri ultra sensibile al rumore con un bambino neonato che nelle sue prime fasi di vita usa proprio il pianto come come strumento di comunicazione per avvisare i genitori quando ha fame quando ha sonno eccetera eccetera come faranno e e questo sicuramente mi ha fatto incuriosire mi ha fatto dire ma un seguito ce lo vedrei benissimo in questo universo universo che tra l'altro è molto simile a un film che si chiama the silence con stelle tucci che trovate su qualche piattaforma di streaming legale è un film tra l'altro anche quello abbastanza dignitoso se non fosse che i i mostri sono veramente ridicoli sono dei polli non mettono veramente paura e questo rovina particolarmente la pellicola hanno più o meno gli stessi poteri cioè sono sono impersensibili al rumore e quindi più o meno il gioco è lo stesso solo che il film con stelle tucci appunto the silence è ufficialmente ispirato a un romanzo mentre invece a quite place non è ufficialmente ispirato a questo romanzo però la storia è identica quindi diciamo che la sceneggiatura diciamo che è una sceneggiatura originale ma secondo me non lo è comunque al di là di questo comunque a quite place invece rispetto a silence è un film fun che funziona completamente anche se anche a quite place secondo me non non è un film che scusate non è un film che presenta degli alieni particolarmente originale anzi per nulla sono piuttosto stereotipati e presi un po' qua e là da diversi tipi di film horror fantascientifici che abbiamo già visto vi ho fatto l'escursus di tutto quello che riguarda quite place un posto tranquillo uscito nel 2018 e è scritto da brian woods e scott beck questo nuovo film invece a quite place 2 è scritto totalmente da c'è totalmente insomma è preso in mano da da john krasinski che l'ha diretto e scritto e devo dire che ha fatto un buon lavoro anche se la storia di a quite place 2 ha sì degli aspetti interessanti per quanto riguardano il prequel infatti questo film viene considerato un midquel perché racconta cioè è comunque un sequel in termini proprio di uscita ma in termini narrativi è un midquel cioè racconta parte di quello che è accaduto prima e parte di quello che accadrà dopo rispetto al primo film sono rimasto veramente sorpreso da da questo film la sceneggiatura non è complessa cioè quello che accadrà non accadranno tante cose particolari però avremo la sensazione che succedano tante cose è molto parte molto strano da definire ciò che conta secondo me se voi riusci se voi riuscirete vedendo il cinema a entrare nella scia diciamo narrativa quindi a non distrarvi perché ci vuole molta concentrazione in questo è un film che ti prende per mano e ti fa fare un volo è molto pazzesco perché ogni ogni situazione è studiata molto bene molto bene per portarti piano piano ad avere una notevole ansia credo credo che non mi capiti veramente da anni di andare a vedere un film che comunque dura un a parte che dura un tempo dignitosissimo perché dura 97 minuti quindi non è estremamente lungo però non è neanche un film breve non mi non mi capitava da secoli di vedere un film e rimanere col fiato sospeso come dice proprio la insomma la frase che usano per promuovere il film col fiato sospeso per tutti i minuti del film dall'inizio alla fine ci sono solo delle piccole pause che sono se ci fate caso sono messe nei punti giusti e sono pause che vi garantisco che se non ci fossero questo film veramente potrebbe portare a all'infarto qualcuno che magari è deboli di cuore perché veramente ti tiene ti mette un'ansia incredibile e lo fa semplicemente giocando con i tempi cioè usando alla perfezione i tempi di ciò che accade è tutto studiato alla perfezione è incredibile la sensazione che ho avuto io è che John Krasinski sia un regista che uno che ha un margine di miglioramento enorme perché ha fatto vedere che rispetto al primo film è migliorato tantissimo nella gestione proprio della suspense la sa costruire molto bene e sa dare il giusto riposo allo spettatore per poi ricominciare da capo vi assicuro che starete con io mi sono accorto mentre guardavo il film che tenevo il bracciolo della poltrona lo tenevo con la mano cioè mi tenevo al bracciolo è una cosa veramente incredibile perché il cinema mainstream ultimamente non è così emozionante così curato così professionale cioè è difficile trovare film fatti bene nel cinema mainstream anzi è molto più facile trovarli nel cinema d'autore o nel cinema indipendente trovare film che hanno comunque altre caratteristiche però che dici vabbè sono fatti bene questo è veramente uno dei primi film da tantissimi anni mainstream quindi alto budget di una grossa casa di produzione che io ritengo un ottimo film horror un ottimo film stando dietro la telecamera e non davanti secondo me ha avuto più tempo di dedicare alla regia in realtà lui lo definirei uno dei blockbuster sì lo definirei assolutamente uno dei più belli blockbuster e film horror di questa categoria esatto non in generale cioè non da autore non indipendente ma come blockbuster horror è uno dei migliori degli ultimi anni ma ti parlo di dieci anni uno dei migliori è fatto veramente bene vorrei dire una cosa sicuramente avere il maggiore tempo da dedicare alla regia può essere stato utile ma secondo me un film per venire bene deve essere studiato a tavolino bene e lui ha fatto questo adesso rispondo alla domanda su terminator che è interessante e ci da la misura io penso che comunque abbia curato molto meglio la regia ma per avere dei tempi così bisogna studiarselo nella sceneggiatura così cioè è la sceneggiatura che ha un'ottima degli ottimi tempi e gli accadimenti e l'escalation c'è questa sorta di narrazione che ti porta proprio a aumentare l'ansia sempre di più fino a un certo punto fino all'esplosione poi dopo ti lascia riposare poi ricomincia da capo e tu arrivi alla fine del film senza neanche un momento in cui ti annoi perché è veramente tutto molto studiato nei tempi quindi anche se lui comunque una particina la fa piccolissima perché essendoci la parte prequel lo si vede si vedrà lui prima che arrivino gli alieni interagire come padre eccetera eccetera sono anche molto carino all'inizio molto frenetico molto frenetico anche all'inizio ricorda molto come si chiama il film degli alieni con Tom Cruise che insomma era fatto veramente molto bene dal punto di vista della regia e del montaggio insomma era fatta bene quella dinamica lì non mi ricordo come si chiamava se era guerra dei mondi forse con Tom Cruise era una bella scena iniziale ecco la scena iniziale di A Quiet Place 2 ricorda un po' quel film lì comunque sì in effetti in termini di minuti lui c'è poco davanti alla telecamera e sicuramente questo gli ha permesso di curare meglio la regia ecco riguardo a Terminator 2 che cazzo hai preso un film estremamente riuscito forse uno considerato tra i sequel più riusciti al mondo io quando l'ho visto ho pensato cavolo ha fatto un film più bello del primo cioè Krasinski ha fatto un film più bello di quello che aveva fatto prima non è una cosa banale perché se non sbaglio Terminator 2 non è dello stesso regista di Terminator adesso provo ad aiutarmi anche perché io sono abbastanza smemorato Terminator è di James Cameron e Terminator forse anche quello di James Cameron adesso faccio una gaffa Terminator 2 è sempre... vediamo... è sempre... sì no no è sempre di... ok è sempre di Cameron no? quindi Cameron è il... che non mi è venuto in mente che Terminator 2 era dello stesso regista no? comunque è un caso eclatante no? che non tanto che un sequel sia migliore di un film precedente ma che sia lo stesso regista farlo migliore quello è una cosa abbastanza rara a me non era venuto in mente Terminator ma mi era venuto in mente... come si chiama? adesso te lo dico perché me l'ho anche scritto qua James Whale che aveva girato per la Universal Frankenstein e poi ha girato la moglie di Frankenstein che anche esso è un film... mi era venuto in mente quello come paragone no? forse sono andato un po' troppo indietro con quegli anni però effettivamente hai ragionissima anche tu Davide cioè è proprio lo stesso medesimo caso però Terminator 2 ha una particolarità Terminator e Terminator 2 hanno una particolarità che A Quiet Place non ha che Terminator 2 e Terminator sono dei film che hanno delle sceneggiature stratosferiche cioè quello che è raccontato in questi due capitoli è qualcosa di mai visto prima cioè qualcosa di estremamente geniale cioè è una sceneggiatura estremamente geniale mentre A Quiet Place è una sceneggiatura estremamente standard cioè si tratta pur sempre di un monster movie cioè apocalittico non apocalittico è pur sempre dei mostri che vogliono uccidere gli umani mentre Terminator ci sono dietro delle dinamiche anche spazio-temporali pazzesche e quindi non li paragonerei ecco nel senso che comunque entrambi hanno il merito di essere migliori del loro precedente film e quindi di aver fatto meglio però giocano su cose diverse per esempio Terminator 2 non è un film che gioca sulla tensione è più un film diciamo basato sull'eroismo, sul sacrificio, su altre dinamiche mentre invece questo è un film basato sulla tensione quindi è proprio un altro genere è un horror ecco proprio si differenzia proprio per quello però comunque si li paragono non come bellezza perché secondo me comunque rimane comunque superiorissimo superiore a livello di sceneggiatura Terminator 2 a livello di regia pure direi a livello di regia pure ma erano anche altri anni però devo dire che questo è un film girato veramente molto bene ha dei difetti perché poi alla fine ecco ne sto parlando estremamente bene ma ha dei difetti però come dico spesso alla fine conta il risultato finale qualche difettuccio qua e là diciamo non mi ha non mi ha infastidito al punto da da valutarlo male anzi lo valuto estremamente bene questo film spiace un po' ecco forse che le tematiche sono sempre un po' banali sempre un po' le stesse ecco ma da un certo punto di vista è anche il suo fascino perché A Quiet Place fondamentalmente è un film che non racconta niente cioè niente di interessante la bravura sta proprio nel fatto che gestendo perfettamente i tempi narrativi viene fuori una esperienza adrenalinica potente io nella mia definizione che poi ringrazio anche Igor Picture e Paramount che l'hanno messa nel video promozionale lo definisco adrenalina pura come come buttarsi da un con un parapendio col paracadute fare qualcosa di adrenalinico ecco per me A Quiet Place è un un film che si può paragonare a un'esperienza di questo genere quindi da un punto di vista poetico narrativo eccetera non c'è molto da raccontare mentre invece Terminator 2 è un film che fa anche riflettere su certe cose so che potrebbe sembrare strano ma in realtà è così sia l'1 che il 2 sono film che sono riflessivi nonostante siano action e comunque abbiano tutta una componente adesso poi non vorrei divagare parlando anche di altri film poi magari dopo parlo anche di altri film come i Goonies eccetera cosa ne penso però cerco cerco di rimanere troppo un po' più sul film in questione poi dopo se volete anche divago parliamo anche di altri film ci sono un paio di cose che voglio dire riguardo alla regia invece che parlare della sceneggiatura dove ho già detto abbondantemente che secondo me appunto è gestita molto bene nella regia ci sono un paio di cose che secondo me sono lodevolissime cioè sono degli azzardi insomma delle cose molto audaci che lui ha voluto fare non che non si siano mai viste però le ha fatte e le ha fatte bene la protagonista diciamo non udente insomma audiolesa spesso intanto in questo film ha un ruolo più centrale e anche se dal poster non sembra in realtà ha un ruolo molto più centrale ma secondo me è anche voluto insomma una sorpresa vederla così più attiva e spesso la soggettiva sua non sarà come si dice aspetta che torno sulla scheda così vi dico i nomi dei personaggi perché sennò diventa un bordello qua chiamarla sempre la protagonista audiolese insomma mi sembra Regan si chiama Regan e botte il personaggio di suo avrà delle soggettive noi siamo abituati a vedere le soggettive video no? cioè cosa significa la telecamera in persona noi stessi noi siamo dentro la telecamera e quello è il nostro punto di vista ecco in questo caso ci sarà la soggettiva anche audio quindi in alcuni momenti noi non sentiremo un cazzo nel film come se fosse andasse via l'audio no? come se fosse un errore in realtà è gestita molto bene da Krasinski perché non dà fastidio ma dà proprio l'idea di aver usato un linguaggio cinematografico cioè audio in questo caso per raccontare come lei vive questa scena silenziosa che cosa vede cosa non vede è veramente molto interessante come è stato montato audace ma alla fine che secondo me premia tantissimo il film cioè nel senso che aiuta lo spettatore a entrare nella parte entrare dentro a immedesimarsi con il suo personaggio e anche con altri personaggi quindi è veramente una cosa grandiosa dal punto di vista della recitazione non ci sono picchi di chissà quale insomma picchi di bravura non ce ne sono sono tutti attori molto bravi anche i giovani devo dire sono bravissimi a me è piaciuto in particolar modo il bambino che si chiama Marcus il personaggio che si chiama l'attore Noah Jupe il bambino ricciolo che vedrete poi nel film ne combinerà di ogni e gli smadonnerete contro diciamo al di là del fatto che gli smadonnerete contro è molto bravo secondo me lui è molto bravo a esprimere la paura tutta una serie di cose tramite l'espressività molto bravo molto brava anche lei molto brava anche Emily Blunt cioè insomma gli attori sono tutti sono tutti di alto livello ecco però non ecco io ho avuto la sfortuna ho avuto la sfortuna di non vedere il film in lingua originale perché la prima anteprima stampa a cui ero stato invitato ci fu un problema di corrente insomma ha saltato la corrente in tutto il quartiere e il cinema non poteva proiettare il film quindi quando sono andato alla seconda chiamata la seconda anteprima mi hanno ci hanno proposto il film doppiato quindi per me è stato un dispiacere però nonostante fosse doppiato io ho gradito il film ed è questa è già sicuramente una cosa a favore perché di solito io non amo molti doppiaggi adesso vi dico cosa ne penso dei personaggi ci sono c'è questo diciamo questa aggiunta no via Krasinski perché comunque c'è solo nella parte prequel ed entra come si chiama adesso non mi ricordo qua non c'è chiaramente Cillian Murphy che è l'attore che tutti noi conosciamo come l'attore di 28 giorni dopo e vabbè ed è il recentissimo Peaky Blinder che è una serie che ha avuto molto successo Cillian Murphy secondo me ha una dote naturale ha una faccia un'espressione degli occhi molto molto espressivi molto doloranti lui nel ruolo della persona dolorante della persona ferita riesce molto bene quindi fa un personaggio e va diciamo a sopperire a quella figura maschile che manca adulta che manca perché lui perché il padre della famiglia Abbott lì Abbott è morto nel primo film quindi ci voleva in qualche maniera e devo dire che è un bel personaggio mi è piaciuto anche molto che tanti aspetti non vengono necessariamente raccontati cioè io lo trovo estremamente realistico estremamente intimo il fatto che comunque tu incontri un personaggio e non necessariamente ci deve essere lo spiegone di quello che fa che ha fatto che è successo che non è successo alla fine ciò che conta sono le azioni ciò che conta sono come ti comporti quel che è stato è stato quindi è interessante è anche coraggioso andare un po' contro questo meccanismo per cui bisogna sempre spiegare tutto allo spettatore perché lo spettatore è pigro perché lo spettatore è stupido c'è tutta una serie di motivi dietro per cui uno dovrebbe fare i film diciamo omologati in un modo per cui debbano piacere oppure i finali aperti no? che non piacciono mai invece no bisogna avere coraggio nelle scelte secondo me i film che sono coraggiosi e questo un pochino è coraggioso nel senso che appunto sia per il montaggio audio per queste scelte qua sia per il fatto comunque di non raccontare tutto perché non è necessario e renderebbe tutto stucchevole e didascalico sono scelte che io ritengo semi coraggiose diciamo non estremamente coraggiose però comunque utili a cambiare anche un po' la mentalità degli spettatori di che altro possiamo parlare? molto bella anche la colonna sonora curata sempre da mi sembra che si chiama Marco Beltrami tra l'altro un italiano che ha fatto anche il colonna sonora di altri film horror comunque devo dire che niente di eccezionale ma caratteristica c'era una canzone in particolare che mi ha colpito durante il film perché era molto caratteristica quasi rappresentava la personalità del film mi è piaciuta parecchio mi è piaciuta parecchio non so vi lascio vi lascio anche se avete qualche domanda diciamo per avere un quadro migliore se no direi che la posso anche chiudere qua la recensione poi possiamo sempre parlare anche di altri film inerenti a questo ci sono ecco vi posso dire che a livello di sceneggiatura e questa è una roba che volevo dirvi ci sono un paio di sorprese quindi chiamiamoli twist non twist sorprese cose che scoprirete sul mondo inventato per la quite place che sono carine e che sono renderanno diciamo intrigante cioè aiuteranno anche diciamo a non annoiarsi troppo perché ci saranno delle cose da scoprire quindi devo dire che è gestito tutto molto bene no assolutamente no non lo so nel senso che io non amo i franchise quindi fra tutti i francesi nel panorama horror di tutta la storia dell'horror assolutamente no allora perché ci metterei prima tutti gli altri più famosi no no anzi però posso dire che io ritengo comunque che una saga come a quite place ha molto più senso di esistere che una saga come The Conjuring perché comunque The Conjuring è un finto universe cioè un universo che mette insieme una cozzaglia di robe che non c'entrano niente l'una con l'altra eh lasciamo stare alla vecchia scuola esatto eh perché tu l'hai detto in termini tra i nuovi non so quali siano poi i nuovi franchise horror cioè perché poi alla fine siamo di fronte a una serie di remake e riqua e rila che i nuovi francesi non me ne vengono in mente diciamo che non amo i franchise e per me a quite place potrebbe anche interrompersi qua tranquillamente anzi sarebbe bello che si interrompesse qua perché io penso che il primo film sia dignitoso e che il secondo film sia un buon film horror che comunque insegna a tanti appunto del cinema mainstream come si gestisce la tensione come si fa un buon film pur avendo qualche difettuccio mi immagino quanto sarebbe bello avere un cofanetto a quite place 1 e 2 fine chiuso il discorso cioè non non ne vedo la necessità anche perché appunto dicevo il mondo di a quite place è talmente banale cioè di una banalità estrema non è così affascinante come potrebbe sembrare non è affascinante per esempio come abbiamo detto prima come il mondo di terminator perché non ha lo stesso fascino stiamo sempre parlando di un monster movie che che non ha delle peculiarità poi detto ciò sulla base del mondo di a quite place si possono anche scrivere grandissime storie dipende sempre chi lo fa quindi non vi nego che se facessero una quite place 3 con una buona storia perché no tra l'altro il film ha anche un paio di jumpscare che però sono jumpscare ragazzi che c'è da saltare per aria c'è da saltare per aria perché perché quando tu costruisci bene la tensione poi basta che fai così fai uno schiocco di dita e la gente fa il salto dalla poltrona mentre invece i jumpscare che tu vedi fatti male sono quelli dove si fa semplicemente uscire una cosa mostruosa di punto in bianco e allora the conjuring gli darei fuoco tutta la saga insidious non l'ho ancora vista perché sto cercando il primo gli altri due sono disponibili sinceramente di spendere i soldi per comprarmeli e poi dopo ritrovarmi una saga di merda no quindi insidious aspetterò di vederla magari su netflix o dove la trovo halloween è una saga che tutto sommato mi è piaciuta annabelle fa parte del conjuring universe nel senso non la considero neanche un franchise come si fa a fare un franchise su annabelle? letterface remake mi è piaciuto magari un giorno vi dirò anche perché cloverfield è una cloverfield mi è piaciuto il primo mi è piaciuto cloverfield lane ten cloverfield lane non mi è piaciuto il terzo che secondo me paradox che secondo me non c'entrava una mazza unfriend paranormal activity ne farei tranquillamente a meno però sul mondo di internet si potrebbe fare qualcosa di buono perché è un mondo nuovo dove ci sono tanti temi da esplorare si potrebbe fare una saga ma per me non è necessario fare dei franchise o delle saghe semplicemente sono sono bacini su cui le persone possono andare a prendere e fare e scrivere una storia perché deve essere necessariamente una saga è una questione di marketing cioè la saga ti permette di portare al cinema le persone solo tramite un nome quindi spendi meno in pubblicità e nel far conoscere il prodotto anch'io amo tantissimo il cinema e le cose che si concludono che hanno una fine perché secondo me è molto legato alla nostra psiche come esseri umani noi siamo il nostro più grande noi viviamo di grossi grandi sentimenti il nostro più grande sentimento è la paura no? la paura di morire la paura di morire è qualcosa che ci spinge a fare delle scelte quindi qualunque cosa finisca ci ricorda che dobbiamo morire c'è una relazione con qualcuno un pacchetto di patatine che finisce un film che finisce una serie che finisce tutto ciò che finisce ci deprime quindi sapere accettare la fine di qualcosa è un atto di grande maturità anche nel cinema sapere accettare la morte è un grande atto di maturità ora non dico che uno debba desiderarla perché è così maturo che però la nostra esistenza come esseri umani è proprio votata a non accettare la morte quindi ci facciamo il lifting, ci trucchiamo, ci tingiamo i capelli si diventano bianchi non accettiamo tutta una serie di cose e quindi non accettiamo neanche i film che finiscono male e non accettiamo i film che finiscono le serie che finiscono le conclusioni delle cose ci tormenta questa cosa io lo capisco però preferisco interloquire con persone più mature che hanno la voglia di assumersi questa responsabilità ogni cosa ha un suo tempo e questa roba non l'accettiamo noi siamo come tutto il resto anzi, secondo me c'è una grande poetica nelle cose che finiscono cioè perché sono molto più attinenti alla realtà e... e niente diciamo che qua si conclude alla fine la recensione di A Quiet Place senza spoiler vi consiglio di vederlo per me è veramente un... un gran bel film un gran bel film proprio di intrattenimento adrenalinico come ho detto a Eagle adrenalina pura cioè... sembra proprio di iniettarsela e... quando sono uscito dalla sala ero veramente super carico veramente super carico infatti ho fatto la storia, le storie così ero molto carico e... e spero che arrivino tanti film così perché poi io è questo che mi aspetto dal cinema commerciale cioè... che siano per quanto meno studiati e fatti con dei criteri narrativi sensati che ti fanno divertire ecco, una cosa che non troverete secondo me è il classico momento morto a metà del film che è una cosa che c'è sempre cioè... arrivi dopo tre quarti d'ora o un'ora di film che... c'è un momento di piattume non succede niente non capisci... c'è questo rallentamento allungamento del brodo evidentemente perché hanno degli standard di lunghezza e tu sei lì che dici minchia che palle se il film è brutto poi... ti tocca subirti anche tutto il finale pallosissimo e telefonatissimo in questo caso neanche ve ne accorgerete io sinceramente sono arrivato alla fine pensando ma... finito il primo tempo cioè... perché... è bello... è bello... adrenalinico è bello... è bello... è bello... è bello... è bello... è bello... è bello...